Ottava di andata tra le mura amiche per l'Olimpia gnonese che domani ospiterà la Re Canatese. La partita metterà di fronte le squadre più longeve di questo girone, per questo motivo può essere definita una vera e propria classica del girone F. Ma non solo, entrambe in settimana hanno cambiato guida tecnica dopo un inizio di campionato non certamente positivo. Al timone dei Granate è tornato Pino Di Meo, colui che nella stagione 2015-2016 salvò gli Altomolisani da una retrocessione quasi certa. A Re Canatese invece la squadra è stata affidata all'esperto Marco Alessandrini, traghettatore della San Benedettese in Lega Pro. È fin troppo facile pronosticare che domani le sfidanti scenderanno in campo più determinate che mai per mettere la parola fine al trend dei risultati negativi, iniziando a conquistare punti preziosi per la classifica. Insomma, le motivazioni sia da una parte che dall'altra non mancheranno. La vittoria in Alto Molise manca da lontano 3 settembre. Il match di domani è fondamentale per Di Lollo e Soci, soprattutto per il morale. I tre punti porterebbero il sereno intorno a una squadra che ha tutte le carte in tavola per dire la sua in questo campionato. Da non sottovalutare il fattore campo, un punto sicuramente a favore De Granata che potranno così contare sui propri sostenitori, che tra l'altro in settimana incuriositi hanno seguito da vicino gli allenamenti. Ancora qualche dubbio per il neotecnico riguardo gli undici da schierare contro i marchigiani. Sarterà il match il difensore Corbo, che ad Avezzano è stato espulso per intervento falloso. Tre pali Faiella, difesa composta da Guglielmi, Rullo, Cassese e Frabotta. In mediana Di Lollo, Ferraro e D'Aversa, mentre in attacco Santoro, Margarita e Niang. Con fischio d'inizio alle ore 15 al Civitelle, la terna arbitrale sarà composta da Claudio Penettella della sezione di Bari, coadiuvato da Alberto Colonna e Andrea Marrollo, entrambi di vasto.